Amici di calciocatania.it siamo con Maxi Lopez, solitamente lunedì mattina è giornata di riposo per i calciatori, però insomma tutto sommato è comunque una bella giornata, questa trascorsa a bordo di questa nave così importante, così bella. Sì, un piccolo impegno per quanto riguarda la società, penso che oggi è un giorno importante per la società, ha aggiunto un nuovo sponsor importante, quindi io cerco di contribuire con il mio grandione di sabbia come sempre. Tu hai detto tra l'altro che Royal Caribbean è una grande società, a questo punto sta al Catania diventare altrettanto grande in campo. Sì, sì, noi dalla nostra parte i calciatori dobbiamo fare bene dentro il campo e poi fare crescere questa società che ogni giorno si vede che vuole ambire a qualcosa in più, quindi quest'anno anche noi dobbiamo ambire a qualcosina in più dell'anno scorso. A proposito di ambizione, tu hai accettato la sfida del direttore che ti ha detto 9 gol per andare in crociera con tua moglie gratis come omaggio. Sì, non è male, sicuramente non è neanche tanto facile, però penso che ci posso arrivare tranquillamente con questa squadra, con i miei compagni che stiamo a fare un grande lavoro e io mi auguro arrivare e fare qualcosa in più. Quindi 9 gol entro dicembre, però ieri la prima opportunità se n'è andata. Ecco, questo Catania-Siena 0-0, come va a letto? Guarda, io ci ho messo un po' la testa a freddo, cercare di pensare quello che si è fatto bene, quello che magari avevamo sbagliato, sicuramente in settimana si corregge, però è normale. La prima del campionato, con quel caldo di ieri che era dura, una squadra che voglia rimanere in Serie A. Penso che piano piano questa squadra si rimette a posto e la prossima settimana prende i tre punti del Cesena, che è un'altra squadra importante per noi e nel nostro traguardo. Ecco, prima giornata tra l'altro è difficile un po' per tutte le squadre perché ci sono stati molti risultati a sorpresa. Tu rivedendo anche le azioni, i gol e comunque rileggendo i risultati, che idea ti sei fatto di questa prima giornata? No, una giornata dove si comincia a mettersi a posto tutto, non solo il piano fisico, sino anche il tattico. Penso che nel possesso palla abbiamo fatto una grande partita e poi si deve capire che una squadra con il loro impegno, con la loro tattica, si hanno messo tutti indietro la palla e noi abbiamo cercato sempre di proporre e di cercare di arrivare alla vittoria. Quindi mi auguro che si possa sbloccare la prossima col Cesena e regalarla alla gente di Catania una vittoria. C'è una parola un po' difficile in italiano che è decontestualizzare, cioè tirare fuori un solo concetto magari da una lunga conferenza stampa. Così è stato fatto la settimana scorsa, con si detto Maxi Lopez ha detto che è triste. In realtà vogliamo spiegare meglio che Maxi Lopez non è triste a Catania. No, 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 no. Ho detto magari con cose che erano in passato, che hanno successo a me personale con una particolarità. Non era che mi sto male a Catania, neanche meno, no, perché io sempre ho detto che la gente di Catania per me è importantissima, per la mia famiglia sempre, e stanno dietro noi e il cuore che ha la gente qua ti fa sentire come a casa, come un'argentina. Quindi per me è un posto importante, il posto dove è nato mio figlio e tante cose altre. Allora il massimo per arrivare a 9 entro dicembre? Sì, 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 è il massimo. In altra maniera non si può arrivare, quindi io sono carico, sono al 100%, quindi speriamo di arrivare anche a qualcosa in più.